Musica Benvenuti all'appuntamento con le previsioni meteorologiche, andiamo a scoprire insieme il tempo per la giornata di sabato 13 ottobre. Cominciamo da Avellino con cieli sereni o comunque poco nuvolosi per l'intera giornata. I venti saranno deboli. A Napoli bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. I venti saranno al mattino moderati, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Mare poco mosso. A Salerno bel tempo per l'intera giornata. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da nord-est. Al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Mare anche in questo caso poco mosso. Benevento, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. I venti saranno assenti o deboli. E concludiamo con caserta. Sole splendente per l'intera giornata. I venti saranno deboli per l'intera giornata. Ed ora la temperatura. La temperatura massima di 22 gradi sarà ad Avellino, mentre la minima di 12 gradi. A Napoli 23 gradi la temperatura massima, 16 gradi la minima. Salerno 24 gradi la temperatura massima, 17 la minima. Benevento 22 gradi, temperatura massima, 11 gradi. Chiudiamo con caserta dove la temperatura massima sarà registrata intorno ai 25 gradi centigradi, mentre la minima 11 gradi. Grazie.